Sono a Carpi, stiamo andando a fare una caccia di geocacche Geocacche io e la Giorgia Chissà perché, vabbè Quella che vedete in avvicinamento è la Giorgia, Burgi Burani detta Burgi Circi Ensen E insieme andremo oggi a cercare delle geocacche che poi vi spiegherà lei Dette anche geocaching però, vabbè, vi spiegherà lei Ciao Burgix! Oggi faremo qualche filminus per cominciare nel vlog Fatti vedere che sei Burgi e Circi Ensen Ok allora praticamente ieri sera Allora porca miseria, scusate mi spiace io volevo degli occhiali fotonici ma sono rimasta in un'altra macchina Niente pazienza ragazzi però questo costumino verde da carnevale si addice tantissimo Comunque sia ieri si è avanzata la proposta di Leo ma se andassimo a cercare delle geocacche E allora io ho detto ma perché no Giorgia? Ma dove? Eh a Carpi va benissimo allora andiamo Però ora io devo capire un po' il meccanismo spiegami come funziona questa Questa geocaccata Una geocaccata Dunque questa cosa mi è stata suggerita dal mio magico amico Salvatore Guarda queste cose ecco ti puoi andare in giro e non sentiti in colma perché non sei in colma Ci sono queste cose nascoste in tutto il mondo Da chi? Da chi ti pare? Puoi essere anche tu un nasconditore di Geocache se vuoi Se ti loghi al sito E niente sono in tante forme e dimensioni Io l'ho trovata una, non dico dove l'ho trovata così non spoilerò niente Era tipo un pacchetto di che vengono tutto nello scotch nè Però l'ha pestata No 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 era proprio uno scosso Tu hai le coordinate vai quando sei circa lì in telefono metti via a prendere non ti serve più E cerchi guardi e giri E dentro c'è il foglietto che ho scritto dove tu ci puoi scrivere la data e il nome Tu dopo lo loghi su internet e ti dici ciao guarda l'ho trovato Però non devi dire delle cose tipo che possono aiutare gli altri Benissimo andiamo Si mormola che ce ne siano quattro Allora piazza dei martiri Poste Però questo è di un colore un po' diverso vedi è per esperti Noi non siamo né esperti né premium e quindi niente Noi si va a scrocco E poi ce n'erano degli altri che ora non trovo più Ma guai Questo non so però se è molto lontano A casa degli orti Che orti saranno? L'orto di una persona? No si sa Non si sa lo scopriremo Che begli occhi mi sto pestando i lacci da mezz'ora Ma vabbè Basta adesso vediamo Ok guardate che bei guantini che ho Sono miei Che ho rubato la gioja Figo Mi piaceva la signora Il passo carraio Ci stiamo avvicinando in centro Alle poste Ah passo carrabile interno Ciao passo carrabile interno Stiamo andando verso le poste Sono di qua no? Sono là Sono là Là Come dice il nostro navigatore Come dice il nostro navigatore Così Dritto Dritto Sfondiamo tutto E tutti Va bene così Tanto lo sentiamo troppo Ci piace Mi faccio Un autoritratto Per testimoniare che c'ero anch'io Tra cento anni quando le geocacche non ci saranno più Ma se vuoi Mi dice Ti filmo un po' Che ti filmo un po' Oh Perché non so più fare Oh Oh Stavo Sfondiamo un po' Cazzarola Ah Devo rifare Scusa Ah Queste Ah Queste Queste Carpi Piazza Martiri Guarda che bella Un po' di nebbiolina Però Questa è la chiesa Che hanno restaurato Da due anni No No Due anni che era In restauro Finalmente l'ha finita Dopo il terremoto Grazie Carpi Di tutte le geocacce Che ci regali La Burgi Continua a cercare Possiamo andare Ma dobbiamo andare in posta Via le poste Murales Graffiti Hashtagraffitismo C'è anche Don Matteo Che ci viene incontro In bicicletta Però tutto traballa Noi siamo E posto sono qua Quindi dobbiamo andare Credo là Se questo è fatto bene Ma là non c'è La chiesetta Di San Rocco Sì che c'è la chiesetta Di San Rocco Non possiamo filmare Il ritrovamento Perché? È segretissimo Non si può mai Mai Noi lo faremo No Io vedo Ma Hai sentito? Ha suonato Dice che siamo vicini Siamo vicinissimi Ok Quando non si ha niente Da fare la mattina Questo è un bel rimedio Questo è un bel rimedio Per fare un po' di sport Anche La chiesa di San Rocco Invece c'è tutta una cosa Non stiamo a leggerla tutta Vero? Se io la leggo tutta Ma tutta live No Perché comunque Per ogni geocache Cache Geocache C'è sempre la sua descrizione Minuziosa Del posto Quindi della Della fondazione E poi Della Dell'aneddoto Legato All'oggetto nascosto Ma non è più in là Hai cannato via Burgi Burgi a Cincensis Non è che torniamo in due Ci dice che Lungo questo muro E spero non sia No 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 Non hai specificato Quale muro? Lungo il muro di San Rocco Del parche Del parche C'è scritto Comunque sono tutte cose scritte Ne sono tanti Un muro bello Di quelli storici Antichi Dobbiamo seguirlo Tra le varie pisciate C'è una bella Anche il nostro oggetto E spero non sia In quel doggy box lì Perché se no Mi incazzo veramente E quindi Da qua però Non si può più filmare Perché il ritrovamento È top secret Mi dispiace Ciao 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 Ho provato il geocache Non possiamo filmare Che la Giorgia Scassa le palline Non si può Però Abbiamo fatto la fila Dovete sapere Che la Giorgia È una bacchettona Se in macchina Non metti la cintura E devi metterti la cintura E tante altre cosine Non si suona il clacson Tante altre cose Uff Dai Leo Nessun ha visto No Ti Anzi